grande palla di Murice, attenzione in aria GOOOOOOOL Peneira, benvenuto nel mondo bianco celeste un gran gol sullo spiamente di Murice all'interno dell'area di rigore, Andreas Pereira ha fatto il suo pallone con un destra fulminato Sirigu che non ha potuto far altro che guardare il pallone e insaccarsi in rete Lazio in vantaggio DA LAZZIO ANDREAS PEREIRA tutto con i nuovi della Lazio parte Murice un cross dalla sinistra poi Patrick perfezionale indietro e un destro da parte di Andreas Pereira torino a zero Lazio a uno Andreas Pereira zona importante per la Lazio zona per un mancino vediamo chi proverà c'è Milinkovic Fares a Scerbi vediamo un po' c'è anche Uth sul pallone anche Uth vediamo chi Correa e Uth Milinkovic vediamo un po' fischia l'arbitro parte Milinkovic il tiro CLEO Il sergente! Una punizione all'angolino che batte Sirigu, Tarina 2, Lancia 2, il sergente Milinkovic, Savic, Stefano! Rigore! 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 Il cartello giallo per il culo! Dai! Mamma mia ragazzi! Ciruzzo! Tocca a Ciruzzo! Tocca a Ciruzzo! Dai a Ciruzzo! Dai a Ciruzzo! Dai! Il palmo della mano sinistra, proprio al limite, attenzione Ciro contro Sirigu! Ciruzzo! Ciruzzo contro Sirigu! Siamo con te Ciruzzo! siamo contenti tutto è pronto per la battuta 95esimo minuto e poi ci sarà ancora da giocare però forza Ciruzzo il fischio la rincorsa il tiro GOOOOOOOL Ciro Ciro immobile il cuore del ragazzo non muore mai partiamo da una parte palla dall'altra Ciru c'è vienza sempre tu Torino 3 Lecce 3 Ciruzzo per la papà Stefano c'è la caccia di punizione per la Lazio vai vai Stefano vai in area di rigore finisce a terra Caicedo GOOOOOOOL 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 la pantena la pantena nera della Lazio al novantottesimo minuto 4 a 3 4 a 3 4 a 3 Lazio in vantaggio GOOOOOOOL il graffio il graffio il graffio il graffio il graffio il graffio la pantena la pantena la pantena la pantena torino 3 Lazio 4 torino 3 Lazio 4 questa Lazio non muore mai il graffio 2021 Grazie.